Rimini ha scelto di lanciarsi in una straordinaria avventura, candidarsi al Capitale Italiano della Cultura per il 2026. Un'idea che forse fino a pochi anni fa poteva sembrare folle, ma che oggi ci appare non solo concreta, ma una scelta naturale. Questo perché siamo maggiormente consapevoli della ricchezza della nostra storia, della bellezza e del patrimonio che ci circonda nel presente e delle tante potenzialità che possiamo esprimere nel futuro. La forza di Rimini sta proprio in questo, nel sapere rinnovare e ricostruirsi, rimanendo sempre fedele alla sua identità e alle sue radici. Oggi vogliamo provare a scrivere una nuova pagina nella storia millenaria della città, che è stata romana, medievale, rinascimentale, primo centro al mondo a dotarsi di un sistema turistico-industriale. Terra natale, fonte di isperazione di Federico Fellini e che negli ultimi dieci anni ha ripensato i suoi spazi e ora intende arricchirli di contenuti unici. Per vincere questa sfida abbiamo bisogno di talenti che vadano ad affiancarsi alla squadra di esperti locali e nazionali che ci affiancheranno in questo stimolante percorso. Cerchiamo tre figure del settore patrimonio culturale, dello spettacolo e della scienza che lavorino con noi per disegnare il futuro di una città che ha tutte le carte in regola per ambire al titolo di Capitale Italiana della Cultura. Sono gli ultimissimi giorni per candidarsi. Vi aspettiamo!